Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dove la maestra aveva tanti bambini, tra cui il figlio di un tecnico di Cinecittà. Lui ha convinto la maestra a fare delle lezioni ai ragazzi del cinema, come nasce un film? E' venuto da me e mi ha detto che vorremmo realizzare un film con i bambini. E ho deciso di imparcarmi in questa impresa, vale a dire, noi abbiamo cominciato a fare queste lezioni ai ragazzini spiegando un po' il retro del cinema. Non avevano nessuna esperienza di cinema, però si sono comportati benissimo perché lasciati naturali, diciamo, non costretti a seguire delle regole precise. Io ho cercato di prenderli in una maniera più naturale e dolce possibile per farli partecipare a un gioco, il gioco del cinema. Io ho cercato di prenderli in una maniera più grande. Io ho cercato di prenderli in una maniera più grande. Io ho cercato di prenderli in una maniera più grande. Io ho cercato di prenderli in una mani che durante preservare un gioco. Io ho cercato di prenderli in una maniera più grande. Grazie a tutti.